bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo videozzo sono ritornato su gta 5 corse stunt corse folli come viene chiamato con il nostro dead stroke e andremo a prendere la nostra la nostra zentorno andremo a prendere ovviamente air thrombing va bene guarda yeah conferma vai continua io sono a posto e non scommetto niente perché non scommetto un cazzo vai sicurta è mamma mia hai qualcosa da dire dead stroke oh negro rispondi buttarelli ma è un altro orario per domani no vai si parte raga ma ma quanti quanti siamo tu sei l'unico monaco no dai ma tu sei un monaco intorno eh modificata da me yeah bitches mamma mia via 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 ma quanti siamo in totale io sono terzo bravo ignaro io mi sento mi sento diverso dagli altri quindi prendo l'altra l'altra scorciatoia l'altra strada lì come si può definire quarto io sono terzo sì è mamma mia via via ma cazzo mi sbanda no non finir fuori madonna santa signore sono finito fuori no cazzo sono quinto adesso ma va a fare il pila dio mi ha venuto un alcuno mi ha fatto uscire ancora sono decimo go dove c'è uno decimo vai vai prendila si prendila vai vai no 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 non salire troppo madonna vai vai mamma mia guarda che bestia big brothers big brother race cazzo wow mamma mia mamma mia via no 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 quanto sei tu settimo tu quattordicesimo quattordicesimo cazzo ce n'è uno in parte sono sesto adesso unicesimo cazzo ce n'è la pula ma c'è il tipo che raga mi ha fatto quasi andare fuori buono cazzo ce n'è ragazzi davanti ho paura a superarmi come fa ad andare più veloce di me sta auto di merda io mi ricordo che andava di meno quanto sei ora? quanto sei ora? quinto ma io mi ricordo che l'x80 andava di meno della zentorno no eppure va di più eh cazzo ci sono i le macchine personalizzate avrà messo dentro sotto il motore tutto mi rallenta davanti per fermarmi quinto e ottavo c'è isto adesso cazzo no vai mamma mia quinto no sesto c'è non ancora sono arrivato non ancora sono arrivato bella storia ma io arrivo tavolo non andare fuori non andare fuori no 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 mamma mia sono andato fuori? no no non sono andato fuori quasi no 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 sono andato fuori si sono andato fuori sono andato fuori io sono sesto cazzo non li raggiungo più quelli la ciao io ciao io adesso ormai mi sento di buono no posso te la faccio a mangiare il cuore devo guidare molto bene però quinto mamma mia sono arrivato quinto man ecco sto qua sto dormendo io sono andato a rotta la posizione ah devo prendere la scia madonna no arrivo nono si ma cosa fanno questi poi si mettono lì fermi o se soltanto quel figlio di puttana ok è arrivato quinto ragazzi ho vinto ancora una volta io mi è venuto nel culo quel figlio di puttana là che mi ha buttato di nuovo fuori in pratica sono caduto sono rientrato mi ha rientrato quel figlio di puttana lì è passato mi ha venuto nel culo dici che sono l'unico sfida con l'azzo intorno questo qua c'è una ancora più bella della mia nabbo comunque ragazzi per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale condividetelo trovate anche su facebook su instagram su quel cazzo di roba lì su social lascio tutti i link in descrizione e bella ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale